Che palle, ogni volta a commentare i video e le cose, vabbè ma poi chiariremo perché io non me la sento più di continuare, non me la sento più di commentare, non me la sento più, soprattutto di chiedere aiuti per i cuccioli, di chiedere aiuto per Tyson, di chiedere aiuto per... Grazie. Grazie. Grazie.